Ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di The Sims 4. Se vedete che faccio questa intro ogni 2-3 puntate è perché appunto di solito divido il video più grande che dura circa 40 minuti e 50 in 3 episodi più piccoli. E' per questo che il saluto lo sentite solo ogni tanto, non perché io non voglio salutare, in ogni caso oggi ci troviamo di nuovo su The Sims, ma come potete vedere ci sono delle nuove espansioni. Ho approfittato degli sconti, mi è stato consigliato di comprare l'espansione di, non questa, non questa, ma questa qua, delle mie case. Devo passare un po' il film, anche se non è altissimo, va beh, delle mie case, però vedendo che molti erano in sconto ho deciso di prenderne delle altre, giustamente. Anche perché, come vedete, non è che io ne abbia molte, e siccome ho visto che appunto avevano il 50% di sconto e costavano i 5 euro, ho deciso di prenderne 4 che di piccole non ne ho mai prese. Allora, l'ultima volta è successo un po' di confusione. Ho un lotto minicasa, residenziale ora disponibile, nella modalità costruisci, apri il pannello di informazioni sul lotto, eserzione minicasa, residenziale sotto il tipo di lotto per costruire una minicasa, guarderete gli speciali vantaggi del lotto. Puoi collocare subito il lotto? Beh, direi che non c'è altra, solo se, beh, si potrebbe chiudere, però direi di collocarlo. Allora, qua non c'è molto spazio, poi c'è questo che è molto vuoto e magari si potrebbe un po' riempire, direi che si potrebbe fare anche qua, tanto non serve uno spazio così esagerato. Potremmo magari metterlo qua, che dite? Direi di metterlo qua. Ok, immobiliato, va bene. Stavo dicendo nel frattempo che l'ultima volta che registravo è successo un po' di confusione perché il programma che uso per registrare si è bloccato, quindi non riuscivo più ad uscire e avevo paura di aver perso anche proprio la registrazione. Invece non l'avevo persa, mentre su The Sims avevo fatto in tempo a salvare prima che si bloccasse definitivamente. Insomma, alla fine sono riuscita a risolvere la cosa, però mi ha preoccupato abbastanza perché avrei, cioè, se avessi perso la registrazione avrei dovuto rifare tutto da capo, mentre se avessi perso su The Sims e se avessi comunque avessi comunque avuto la registrazione mi sarebbe bastato semplicemente rifare tutto da capo, però sapendo già come era fatto. Allora, lasciando perdere queste cose io direi di continuare ad arretare, mi è stato consigliato di arretare con l'espansione appunto delle minicase. Allora, mi è venuto un attimo un colpo perché ho detto, oddio ma è così piccola la casa, cioè, non ho fatto sedimenti e nient'altro. Sì, sì, era così. Poi stavamo anche facendo il piano di sopra, mi è venuta in mente una cosa però che mi era stata consigliata che ora andrò subito a vedere. Visto che appunto lo scapuzzino era un po' inutile, ho rubato tra i commenti. Allora, mi era stato consigliato da Impigiamatti, li prego, di spostare lo scapuzzino, quindi questo coso è inutile qui. Non si vede neanche tutto quello che c'è dentro, ma che era inutile, però giuro che c'è qualcosa. Se andiamo nella modalità costruisci, costruisci, se andiamo nella modalità costruisci, notiamo, possiamo notare che ci sono delle cose, c'è un cucchiaio, che cosa è quella roba, mi insegna un ventilatore, di dubbio, e cosa per il giardinaggio e delle pentole, è molto utile questo scapuzzino, io direi proprio che è veramente utile. è talmente utile che ho considerato appunto questa opzione, che secondo me è molto fattibile. Mi è stato consigliato di sacrificare, spostare lo scapuzzino e mettere l'ingresso della sala da pranzo sul corridoio, perché quella porta era troppo bella. Quindi, si potrebbe mettere l'ingresso, cioè mettere quella porta che avevamo tolto all'inizio. Devo solo capire come, cioè in sostanza, siccome appunto non avevamo messo quella bella porta là, la possiamo mettere qua, facendo tipo un'entrata, solo che non mi andava di togliere il muro, perché se togliamo il muro, togliamo, diciamo, quella coprenza che darebbe a questa parte della cucina, cioè non sarebbe più coperta, diciamo, quando si entra in cucina, inoltre mi perderebbe anche questa piccola parte qui. Quindi, io direi che si può fare, solo che... Allora, io direi di eliminare queste cose che ci sono dentro, che sono altamente inutili. So che non si era effettivamente capito, quindi ho voluto ripetere un'altra volta che queste cose sono inutili. Allora, fatemi pensare un attimo, perché volevo lasciare questa porta e mettere un'altra porta qua, ma cosa servirebbe tutto ciò? È una bella domanda. Secondo me non è fattibile questa cosa, cioè tanto vale togliere il muro. Quindi così. Sono a filassare da pranzo, quindi è gigante, ora devo aggiungere un sacco di cose. E mettere appunto quella porta, quindi togliamo magari questo quadro, la porta mi mette, mettiamo la porta, vediamo, no, era questa mi pare, se non sbaglio, se sbaglio dite quello che la cambio. Mi pare che sia questa, togliamo magari anche questa opzione. Mi pare che sia bella anche così, no? Non è entrata... perché non mi andava di togliere la pianta, secondo me ci stava. E direi che può andare. Dobbiamo solo capire un attimo adesso che cosa mettere qui. Visto che comunque adesso c'è... Comunque è aperto questa direi di spostarla qua. Fatemi pensare un attimo se noi andiamo di qui a una solita sala da pranzo. Troviamo appunto il tavolo che abbiamo già messo qua, no? Purtroppo questo mouse fa un po' di casino a girare. Allora, potremmo mettere magari un soprammobile. Per metterci qualcosa. Questo è l'attaccaramuro. Piazza Polite. Oh, ma che carino! Ecco, diciamo che per la casa che intendevo fare io, siccome comunque volevo fare una casa, noi facciamo finta che sia sua nonna, anche se sia sua mamma, ok? Che era partita con questa idea. E siccome appunto volevo fare una casa, diciamo, un po' in tendenza, a nonna, no? Come quando si arriva a casa della nonna e si ha proprio il ricordo di nonna. Ecco, volevo fare una cosa del genere, quindi adesso vorrei dire, magari abbiniamo un po' i colori, perché la cosa è gialla, quindi ecco, così, sarebbe molto carino. Ok, poi abbiamo un portasciavane, niente, un portaerbe della cucina delle storiche. Sembra molto carino questo. Vediamo sempre sorrazzurro. Io sono innamorata comunque di queste cose qui. Non lo so, mi ispirano un sacco. Abbiamo uno scaffale, che io direi che però non ci sta. Sceglie un sacco di spiccioli. Sceglie un sacco di spiccioli. Ok. Poi cosa altro potremmo mettere? Per pesci mobili. Oh, ma che carini anche questi. Sono molto carini. Però cambierai il colore, perché non mi ispira molto il colore. Tipo sul blu. Ecco, sul blu. Però sposterei. Tipo qua. Non so perché. Non chiedete perché l'ho messo lì. Ci metterei forse un piccolo tavolo. L'ho apparato in tavolo nella cucina di questo. E' un piccolissimo tavolo, giusto? Se no c'è il puff. Ok. Potremmo anche metterlo. Non so perché però. C'è il puff. Mettiamo un puff. Prima mi sa che ho detto di non metterlo, ma va bene, puff. Poi ci eravamo fermati però al bagno. Che non mi ricordo se abbiamo completato oppure no. Però mi parte sì. C'è il davantino. C'è la doccia. Magari possiamo aggiungere qualcosa, visto che appunto adesso ci sono le spazioni nuove. Qualcosa? Andiamo. Prima quando eravamo qua. Ma non di queste, ma magari di poco. Di queste. Io non ho ancora capito che cosa è questo. Credo sia una cassa. Senti, questo strumento. Abbiamo un portasciocamani. Che però, ce n'è già uno lì. Però devo dire che ci vedo meglio questo. Quindi forse lo cambio e ci metto questo. Lo mettiamo sul bianco. Forse è meglio questo. E qua? Ecco. Non vedo più niente adesso. Questo lo togliamo. E stiamo guardando. Ah, questo è un asso da stiro. Lo scaffano. Sono un oggetto sascurato. Ok. Anche questo potrebbe andare bene. Magari dello stesso colore dell'altra. Questo mi sa via rosa. Questo è un legno. Però è quello che si attiva il più in realtà. Questo è davvero scusso. Dai, facciamo questo. Anche se non è proprio lo stesso colore. Ok. A cavolo, sapete cosa potevamo metterci nello scappuzzino? Tutte le cose da stirare. Ormai non lo riporterò indietro con lo scappuzzino. Allora, tornando su, mi è stato fatto notare che bisogna passare per il bagno, per andare in camera da letto. Vero? Però si può sempre andare per fuori. A me va bene così. Quindi direi di continuare. Allora. Qui c'è il bagno, quindi un altro bagno da fare. Allora. No, no, no. Qua bagno. Ok. Qui direi di metterci una vasca, visto che giù abbiamo messo una doccia. Quindi, guardiamo. Ma cosa c'è di bello di vasca? In realtà, stiamo cercando una finestra adesso, perché non si vede il tubo, se no. Quindi cerchiamo una, beh, adesso si potrebbe mettere una di queste, però in realtà non ce la vedo molto. Ci vedrei più una cosa del genere. Che comunque non è che illumini particolarmente la stanza. Per nulla. Quindi va bene quella lì, ma ne metterei anche un'altra, magari. Sempre così, dai. Questa la metteria anche più bassa, non so, mi ispirava più in basso. Ok. Allora. Ci mettiamo una vasca. Quindi, guardiamo tra le vasche che cosa abbiamo, se c'è qualcosa di nuovo. Io non vedo niente di nuovo, quindi possiamo andare. Vediamo.